Ciao a tutti, io sono Francesco Gheghi e nel film interpreto Enrico Morel, è un ragazzo che per colpa di un evento passato si ritrova in questa grande sfida a livello personale emotivo con il padre. Io se devo descrivere il mio personaggio in tre parole lo descrivo menefreghista, autodistruttivo e fragile. Io nella mia vita ho sempre voluto interpretare un horror, un thriller, una storia di paura. Questo è un horror completamente differente, tanto che ai provini Paolo ha avuto la geniale idea di non raccontare a nessuno che fosse un horror. Lavorare con lui è fighissimo, è formidabile, è un grande regista e sarà il futuro del cinema italiano, sa lavorare con gli attori, tira fuori il meglio da tutti. Mi sto trovando benissimo e sarà bellissimo lavorare con lui.